Cosa stai facendo? Mantengo in vigore lo spirito del corpo attraverso l'esercizio. Oggi non vado a scuola, manifestazione. È per l'estinzione del gorilla del cross river nel Nigeria sudorientale. Senti, ti dispiacerebbe accompagnare Tito oggi a scuola? Non vorrei fare tardi a colloquio. Perché oggi? Secondo te mi metto la cravatta per fare le uova strapazzate? Ciao, vai, vai. Che c'è? Devo andare a parlare con i miei cari di Svezia. Il Natale non è così importante, no? Sei stato te a scegliere di muovere il tuo lavoro. Ma forse c'è un problema se tu non hai più un rapporto decente in questa casa. Ma l'avevo realizzato che fosse così grave. Per forza, non ci sei mai. È inutile che te la prendi con me se sei arrabbiata per le tue cose. Che cosa stai facendo? Mi sto vestendo, mi vesto. Posso vestirmi? Sì, ti stai vestendo, lo vedo. Dove vai? Sto uscendo da qua dentro. Mi manca l'aria, va bene? Se l'ho detto non tornerà più. Oddio, no. Ma non l'aveva venduto. Veniamo tutti a Stoccolma con te. Facciamo il Natale tutti insieme. Sei impazzito? E di ai bambini di reggersi forte. Cosa vuoi fare? Torniamo a Roma. Sai come ti pare, Carlo? No, 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 ma tu vuoi andare a Roma o a Roma? Sì, sì, sì. Ok, torniamo a Roma. Attento! Hai ammazzato Babbo Natale. No, amore, non l'ho ammazzato. Lo vedi che si muove. E poi non è Babbo Natale. Questo è un signore vestito da Babbo Natale. No, no. Ma è il mio spazzolino quello. Ma pensavo se così si fa mochi. Ma io di sicuro non ti lascio rovinare la mia vita. Io lo sapevo, perché? Non so più neanche perché mi è venuta l'idea di sto camper, guarda. L'idea più idiota della mia vita. Tu con chi vorresti stare dei due se si lasciano? Quando un bambino vede i genitori in Lidia, invecchia prima. Ho capito che stavo perdendo di vista le cose importanti. Cioè? Poi. Hai fatto il mule per la mamma? Certo che l'ho fatto. Un'ora e quaranta tutta filata, senza stacchi, da spararsi proprio. Eh? No, no, dico, da spararselo tutto d'un fiato.